ciao a tutti i ragazzi da tfg on demand allora dove sei tu e io sono qua ah ti sei fatta l'armatura in diamante bravo e ho fatto anche tutti quanti i potenziamenti possibili inimaginabili allora 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 c'è una cosa che devo farti vedere guardami guardami caduta l'etica da ero e non ti fai male bravo allora oggi devo farvi vedere una cosa che ho trovato girovagando per il mondo intanto lei mi ha tratto una cosa strana che però non vi faccio vedere non vi faccio ancora vedere non vi tengo nascosto uno perché tra l'altro è vicino a casa da quella parte se non sbaglio no hai sbagliato ho sbagliato è fortunato che se quando io dov'è sai che non ho rientamento no comunque oggi armati di spada nuova potentissima e armatura di come si chiama pietra madre dobbiamo andare a trovare a fare una sorta di dungeon non sta a bruciarmi casa non brucia questa sei sicuro no guarda che non brucia bucci cosa allora vieni con me allora come vedete ho trovato una sorta di cosa a parte che c'è un lucky block qua da fare e poi c'è oddio guarda quanti gli ho guarda quanti i cosi scheletteri si guardate uno due tre vediamo questo un altro la quattro quattro e dopo dite che sono rari oh la c'è un'altra linea guarda ok sta venendo su dove guarda guarda che sto vedendo ah praticamente dobbiamo andare lì esattamente oddio ma ci sono brutti mostri qua si aspetta guarda vedi che guarda non guarda sto vedendo bene ma si fa male da soli passano praticamente dobbiamo andare qua sotto oddio cosa sono quel cosi la sono i stone golem bam stone golem quanto è fungita 30 dv hai visto che deve essere anche il potenzialmente quello si ho visto ho visto perfetto beh così muoiono subito oh la ma che cazzo sono tutti fuori ho già una cassa qui dark iron la spada quella che stessa abbiamo già guarda sono qua sotto si spawnono da qua sotto probabilmente vieni a vedere ahi dio cos'è è lo stone golem qui dietro aspetta che lo rompono merda cosa mi ha colpito mi ha colpito lui sono gli stone golem devi dire domanda ma come fai ad essere lì dentro mi spieghi oddio è vero ma si spawnono qua ma uccidi ah sono gli stone golem di cui parlava il villager coglione nella dimensione del tramonto ah si? si per un attimo scusa ho il trafano perchè cazzo non lo sto usando e non sei un professore? beh però non c'è non c'è nessun come si prendono i cavalli scaletti oddio è questo? questo qui no 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 non era questo i cavalli scaletti e che ne so come si prendono i cavalli scaletti? ah vieni guarda guarda c'è un altro albero con le robe dentro e vabbè qui non dovrebbe esserci niente di... guarda 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 lì guarda lì guarda lì ma dove dico? guarda che arrivo su adesso io vado a fare il culo a striccio e dove sono? uno è giù e l'altro è volato su ah questo dark iron cast iron cosa serve il cast iron? cast iron vingo lo prendo lo tengo lo prendo lo tengo porto anche il sake che non si sa mai allora ah c'è un'altra cassa qui che non avevo visto? io è qui nascosta bastarda attenti? copper vabbè vedi negli angoli se ci sono altre casse no comunque non dobbiamo andare qui sotto aspetta apri il lucky block prima o lo apriamo alla fine? no apri subito dai subito? ma se poi crepo ma se io vorrei farlo dopo perchè se poi crepo hai salati a cartetta? no? si? dai che si va prodotto ecco 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 cubo di magma vaffanculo oh occhio cosa occhio cosa no ma non si farà anche male quando cado il cubo ma quanto cazzo è grosso poi sto cubo? ma dove lo stai lanciando Rinnega? non sta a buttarmelo l'acqua dobbiamo andare lì dentro noi no lo sto spostando oh aspetta che arrivo anch'io spostando spostati dai tiragli tiragli sberle non riesci a colpirlo si l'hai colpito dove cazzo è finito? oddio ma non l'hai buttato in faccia? aspetta 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 ma non è che si sdoppia anche sto coglione? sarà divertente dai dai uccidilo eccola sapevo che si sdoppiava sono piccoli hanno 25 di vita li ammazzano subito ma ascoltai io mi sono rotto di farmi saltare per aria perchè non muoiono subito vado a prenderla dopo mi sa che potenzio l'altra squadra morita tutti bastardi bastardi ma quanti quanti ne vengono fuori? facciamo le palline di magma ah è vero le palline di magma abbiamo uccidi 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 sto usando con lascia ragazzi per comodità ma non perchè altrimenti salta in continuo e ci mettiamo una vita io dopo vado a farmi potenzio l'altra spada perchè effettivamente ci servono dell'anima un po' più forti oh ora le palline di magma palline di magma cosa servono cosa si può fare non si può fare un cazzo o almeno si può fare ma questa mod qua non prende tutte le u le cose quindi andiamo giù possiamo andare? andiamo ah di qua vedi che non ha senso di orientamento io scendo per le scale si aspetta senti chiudo i cosi di magma ma chiudi si tanto io come potrei ho resistenza al fuoco comunque guarda che è una sorta di miniera che cazzo è? e qui dentro che c'è qualcosa lì dentro io ti salto sopra aspetta eh ok ce l'ho fatta andata aspetta che prendo col piccone che ha anche fortuna ma questa non serve la fortuna perchè è ferro ma lo prendo tutto ok preso tutto che figa hanno fatto una miniera si ma è una miniera è una cosa questa come si dice una sorta di lampadina di roccia di roccia di roccia e ferro e adesso prendo tutto ragazzi tutto aspetta aspetta sto arrivando quindi ti occupato arrivo 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 qua oh è pieno di mostri lì eh attenzione si lo so e qua perchè si interrompe la scalinata ah bravo lì ho messo l'acqua ok spam muori adesso cadio e muori adesso anche tu cadio e muori boss mega stone cosa dove? aspettalo dove? non lo so non lo vedo qui c'è un coglione lì dentro forse qui dentro sai aspetta che pensi di chiudere l'acqua della lava che non vorrei mai che aspetta un attimo che non sto vivendo che adesso però oh c'è una cassa qui attenzione e qua aspetta qua c'è del ah ma dov'è sto boss? non lo so non lo vedo mmm con sta acqua qui che mi sposti ma è per evitare attento che c'è la lava che sta scendendo sopra di me si ma porca troia no ma tanto sono vicino all'acqua e tu l'hai spetta aia ok ma possiamo andare linea possiamo andare ma c'è è qua dentro è sicuramente qua dentro vedi che c'è un buco dove vuoi che porti sto buco cos'è questo? magical coin aaa cristallium dimension no sarei per trattare questa dimensione metti torce che non vedo un cazzo ok ma è tutto buio qui dentro e dove sarebbe questo gol si eccolo lì ah lo vedo lo vedo duecento di vita ragazzi guarda quante robe dopo ci prendiamo oh è pieno di diamanti qui riesci a mettere un paio di torce anche per terra perchè non lo vedo ah su? no ce l'ho all'arco io però aspetta un attimo ho un'idea aspetta un secondo aspetta eh dammi un secondo aspetta eh aspetta 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 uno due dai veloce metti sta troccia metti sta roccia ok ok io potrei fare così fare una sorta di ehm no ucciso ahahahahah ci è messo un secondo scusa perchè non ti attaccavo? guarda che spada perchè volavo scusa bedrock sword si hai visto cosa ha dato a me ha lasciato anche le le magical coin più i queste no? i blocchetti dungeon pace ah polis è per la prima altra dimensione ma scusa guarda che c'è diamante che figo ho un'arma ma perchè? come diamante? la madonna guarda prendi prendi diamante anche io vorrei farmi la ma tu non hai l'arma confusa ma scusa perchè ho infine perchè ho sollecitudine mi spieghi? perchè ho sollecitudine? perchè ti hai detto dai vai ce la fai sei grande cos'è che mi da sollecitudine infinita tra l'altro? è il mio piccone? no è la spada? boh perchè c'è l'animentario è la spada? c'è qualcosa qua che mi da sollecitudine? non capisco eh perchè sei con me no lascia me diamanti quello di fortuna ho fortuna cazzo eh ma scusa perchè ho sollecitudine? ma tu non farti domanda eh no io voglio capire scusa eh ma per una volta hai qualcosa di decente addosso eh ma non capisco forse aspetta no non è questa spada qua che dà sollecitudine perchè cazzo è che dà sollecitudine? eh ti ho detto eh servo io dai ce la puoi fare eh ecco eh mi sono preso bene scusa un attimo che devo andare a prendere il il diamante che c'è là sopra vedi quel diamante la infamone riesco a prenderlo da qua? si ok aspetta che lo prendo ok perfetto e ho preso ben 23 diamanti vieni qua che c'è ancora uno forse perchè mi ha ucciso lei era un golem ma l'ho ucciso io che cazzo ne so io perchè ho sollecitudine? ok sono uscito sono uscito ho ancora sollecitudine non ho più sollecitudine si vede che ti ho detto perchè sei stato il gambe ti sei preso bene perchè ho ucciso in quattro e quattro lato il golem ma forse non ho mai capito perchè ho sollecitudine comunque vabbè qua dietro c'è una cassa dove cazzo è? ecco la cara qua dietro il carbone dietro il carbone allora che cazzo è sta spada? bohres su beh 15 di danno non è ancora che è diamanti beh 15 ho 2 però da 2 più 5 questo invece oddio cosa? che c'è? guarda mi da salto ampliato cosa? guarda eh io adesso tolgo la spada vedi e non ho più niente metto la spada ho visione notturna velocità magic boost salto ampliato resistenza respirazione acquatica ma guarda quanto sono veloce guarda Rininga guarda sono agitatissimo beh come sempre che figata bella sta spada allora posso darti questi tieni questo qua che l'ho trovata prima tieni ma ti ho dato spade nuove a te? no te l'ho data lì guarda soltanto le gemme quelle strane rosse ma che figo anche il salto ampliato e lì ce l'ho data prendi la prima che sparisca dov'è? è lì la void la pietra madre è la spada di pietra madre qua lì infatti che mi teleporto su un attimo boh ok ecco mi da fastidio che però si vede tipo che si sfarfalla di notte è perchè ha visione notturna perchè ha visione notturna no? però è figo perchè guarda quanto cazzo corro no va benissimo sta spada assolutamente da tenere però anche il problema è che perdi i potenziamenti appena tu levi la spada dalla mano capito? cioè non è che dura all'infinito esatto o comunque un po' anche dopo che togli la spada cioè tu appena togli la spada finisce finisce vedi tec finito ok andiamo a provare questa spada voglio dare una sberra a qualcuno non c'è respirazione subacqua ma che figlio è guarda che figlio è guarda sto volendo buttarmi in acqua per vedere perchè ho respirazione subacqua sai cosa è un casino se qualcuno ti incendia però tipo tu? si ma se tipo salto via niente non riesco ad entrare in acqua ragazzi cammino sull'acqua senza alcun problema easy ragazzi easy ho visto una struttura comunque cos'è questa Rinnegan? quello lì è una cosa ma scusa un attimo scusa qualcosa altro per rompere devi metterci la nether star you need nether steel nether steel no nether star e cos'è il nether steel? dove cazzo lo trovo? odio ci sono ranni qui oh perfetto posso provare ho ucciso con un colpo fate che ha 15 di vita il ragno ok rotto questo ma non ho solitudine però no e qua c'è comunque qua si va giù chi è? ha un lupo andiamo giù o andiamo su? no 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 c'è la piramide c'è un lucky block con un lucky block con gioia in giubilo attenzione ma lontanati lontanati stai lontano ma non c'è problema ho una super sword qua è potentissima ti dico più che altro perchè mi permette di correre veloce andare in giro veloce andiamo su a vedere se rimecchiamo di nuovo poi e no magari ci sono i coglionazzi la ti ricordi cosa abbiamo trovato? si mi ricordo ok ho capito vabbè ragazzi allora il prossimo video mi sa che andremo penso nel nether nel nether perchè dobbiamo trovarci ci stanno inseguendo gli zombie dove? qua in acqua dove sono? arrivo arrivo a picchiarli a schiaffi proprio mi sta seguendo te e non me ma perchè li lanci via proprio male oh ok perfetto ciao a tutti ragazzi e al prossimo video ciao 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 ciao